Amén. Il 10 di questo mese ciascuno si procura un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà il vicino, il più prossimo alla sua casa. Secondo il numero delle persone, calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'Assemblea della Comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrustita al fuoco. La mangeranno con assimi e con erbe amare. Ecco in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali e i piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti i direi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi fragello o disterminio, quando colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celeberrete come festa del Signore, di generazione in generazione. Lo celeberrete come rito perenne. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi hai fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore, è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Parola di Dio. Lode e gloria a te, oh Signore. Lode e gloria a te, oh Signore. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni agli altri. Lode e gloria a te, oh Signore. Lode e gloria a te, oh Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Da Vangelo secondo Giovanni. Glorie a te, oh Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta alla sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse, non tutti siete puri. Quando ebbe lavato i loro piedi, riprese le sue vesti, sedete di nuovo e disse loro, capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. 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 L'Apostolo Paolo dice Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso, cioè quello che il Signore Gesù fece nella notte in cui veniva tradito. E' emozionante credo pensare che noi qui questa sera radunati attorno a questo altare siamo l'ultimo anello di una catena che di trasmissione in trasmissione, di consegna in consegna ha fatto arrivare sino a noi questa sera le parole e i gesti che Gesù nella sua ultima cena ha consegnato ai suoi discepoli. E' bello che ne prendiamo consapevolezza perché significa rendersi conto della potenza, della tradizione, di questa tradizione che ci riunisce qui questa sera che è l'Eucarestia. Una tradizione che ci connette a Gesù, al suo amore, ci riporta indietro e forse anche oltre Gesù perché Gesù quella notte ha scelto di dare un significato nuovo ad una tradizione che lo precedeva. Abbiamo sentito nella prima lettura la Pasqua ebraica, un pasto solenne, un rituale domestico in cui Israele già faceva memoria di generazione in generazione della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. E di quel rituale, di quel pasto, Gesù sceglie due gesti, due azioni e le lega per sempre indissolubilmente alla sua persona e a ciò che sta andando a fare sulla croce. Prende due gesti da quella cena, la cena ebraica, la frazione del pane e la benedizione sul calice. Sono due gesti che da quel momento in avanti, tra i suoi discepoli, noi compresi questa sera, narreranno per sempre il suo amore, un amore che dice il Vangelo di Giovanni si è spinto fino alla fine. Di generazione in generazione questi due gesti continueranno a rendere presente nella Chiesa e nel mondo questo amore che è sino alla fine. Il pane che tra poco verrà portato ancora una volta all'altare, che è memoria di un corpo spezzato per noi e il vino che è memoria di un sangue versato per amor nostro. E poi, questa sera, prima di celebrare l'Eucaristia, compieremo di nuovo il gesto della lavanda dei piedi. Esprime in modo sostanzialmente complementare il senso di ciò che Gesù consegna ai suoi discepoli durante la cena. Il senso di un dono totale, del dono totale che Gesù fa di sé. Vedete, l'Eucaristia e la lavanda dei piedi sono un po' come le due facce della stessa medaglia. Mi colpisce una cosa nel brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. L'Evangelista Giovanni ripete più volte che Gesù è consapevole di ciò che sta per fare. Lo si dice per tre volte. Sapendo che era venuta l'ora, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto, sapendo chi lo tradiva. Gesù sa e sapendo tutto depone le vesti, compie il gesto più servile che si possa immaginare. Lava i piedi dei suoi discepoli, un gesto umile certamente, un gesto di ospitalità. Era così che veniva accolto l'ospite in casa. Bellissimo. Gesù dà ospitalità a ciascuno di noi, ai suoi discepoli. È un gesto anche di grande intimità. Nella Bibbia i piedi sono una parte intima. Gesù fa entrare l'intimità dei discepoli e anche la nostra intimità nella sua persona. E poi con altrettanta solennità riprende le sue vesti e si rimette a sedere. Lo ripeto, Gesù compie tutto questo in piena consapevolezza. Sa quel che sta facendo. È un po' come il buon pastore di cui si parla ancora nel Vangelo di Giovanni che consapevolmente in totale libertà per amore. Che cosa fa il buon pastore? Depone non le sue vesti ma la sua vita per riprenderla di nuovo. Questa sera Gesù si rivela a noi come il buon pastore che dà la vita, la depone per noi che siamo le sue pecore. Morendo per noi e risorgendo riprenderà di nuovo questa vita come in questa sera riprende le sue vesti dopo essersi chinato dove? Nella morte per lavare i piedi di ciascuno di noi. Gesù sa tutto questo. Non c'è un grammo della sua persona, non c'è un centimetro del suo corpo, un sentimento del suo cuore, un pensiero della sua mente che non si metta in gioco in questo amore sino alla fine, che è il servizio di Dio per l'umanità. Un servizio che è sino alla fine, senza defezioni. E sempre in questa pagina del Vangelo di contro ci sono i discepoli e Pietro in primis. Gesù sa, sa, è consapevole di ciò che sta facendo. I discepoli più volte si dice che non riescono a capire, che faticano a capire. Nella mente di Pietro la situazione dovrebbe essere esattamente il contrario. È l'uomo che sarebbe tenuto a servire e onorare Dio. Qui, in questa notte, anche questa sera, c'è Dio che onora l'uomo, che onora te anche con i tuoi peccati, le tue ferite. Ti onora sino alla fine, amandoti sino alla fine. Là anche dove sei più sporco, più fragile e ti serve, si mette al tuo servizio. Gesù che sa chiede a Pietro, ai discepoli nel Cenacolo, a ciascuno di noi questa sera, un atto di fiducia. Pietro, e forse anche noi, saremo portati a dire tu non mi laverai mai i piedi in eterno, non mi toccherai, lì dove non voglio che nulla e nessuno mi tocchi, lì dove vorrei chiudermi in me stesso. Tu non mi laverai lì. E Gesù cosa risponde? Se non ti laverò, non avrai parte con me. Fidati, Pietro, fidati, si fa così oppure non resterà niente, niente di ciò che tu mi nascondi, niente di ciò che tu ritrai al contatto con la mia persona. Vedete, Gesù insegna ai suoi discepoli e anche a noi questa sera che si impara ad amare sino alla fine come Gesù, come anzitutto lasciandosi amare da Lui. Allora vedete, se tu ti lasci lavare tutto, tutto quanto, anche tu diventerai capace di questo amore. Anche tutto il nostro corpo, tutta la nostra mente, tutto il nostro cuore, tutta la nostra volontà diventano capaci di questo amore, di amare sino alla fine la tua sposa, il tuo sposo, i tuoi figli, la tua comunità, di un amore che non viene meno alla parola data. Di questo Gesù con il suo servizio ci rende capaci di un amore che è per sempre. E quanto lo desideriamo in certi momenti nella vita e quante volte ci scopriamo incapaci. forse Gesù ci dice questa sera perché non ci lasciamo toccare da Lui abbastanza nel profondo, perché non lasciamo che i nostri piedi siano lavati dal suo amore. E vedete, è solo e soltanto così che la catena della tradizione di cui ci parla Paolo nella seconda lettura continua a trasmettere di generazione in generazione l'amore totale sino alla fine di Gesù. Questa tradizione che comprende anche noi. Oggi forse vediamo talvolta perlomeno il rischio di essere noi l'ultimo anello di questa catena perlomeno in Occidente che fatica trasmettere la fede in questo amore ai più giovani. E a volte forse viene davvero da pensare ma di questa catena di generazione in generazione che da Israele arriva fino a noi che ne sarà? È destinata a interrompersi perlomeno qui da noi. A volte la domanda viene ed è seria. Ecco mi verrebbe da dire così non sarà così se continuerà ad esserci qualcuno qualcuna che come Pietro si lascia lavare tutto per essere tutto capace di amare. La trasmissione dell'amore la trasmissione della fede è qualcosa di fragile non è una catena di acciaio è fatta della nostra umanità della nostra carne che è una carne fragile e allora sì questa trasmissione prosegue e non si interrompe solo se ci sono discepoli e discepole disposti a lasciarsi amare per amare a loro volta sino alla fine. Se siamo qui questa sera è perché in fondo nel più profondo del nostro cuore questo desiderio c'è. Chiediamo al Signore di essere autentici anche questa sera anche in questa Pasqua il Signore è disposto ad amarci sino alla fine per abilitarci per renderci capaci di un amore sino alla fine come il suo. un amore per amare